Fa caldo, certo, estate. Sì, se non fosse che questo caldo è anomalo per le nostre latitudini. Ben al di sopra le medie stagionali, l'anticiclone africano non dà tregua. La prossima settimana, anzi, sarà ancora più rovente, con non poche località in Abruzzo, dove si supereranno i 40 gradi. Intanto a Pescara ancora bollino rosso. Le previsioni del nostro tecnico meteorologo Giovanni De Palma. Le temperature subiranno un lieve calo tra oggi e la giornata di sabato in particolare, ma poi l'anticiclone africano tornerà ad espandersi verso la nostra penisola e ci porterà ancora temperature abbondantemente al di sopra delle medie stagionali. Sono valori decisamente anomali che non fanno parte del nostro clima, perché le temperature previste supereranno i 12-14 gradi rispetto alle medie del periodo. Quindi farà molto caldo, si intensificherà l'AFA lungo i litorali, ma sulle nostre regioni centrali, quindi anche in Abruzzo, le temperature potrebbero in alcuni casi superare i 40 gradi. Dov'è che farà più caldo? Sicuramente nelle valli interne, soprattutto nell'Aquilano, in particolar modo sulla Valle Peligna, ma anche nelle principali valli che si affacciano sul versante Adriatico, Val di Sangro, Val Vomano, Val Pescara. Lungo la fascia costiera invece le temperature saranno sì levemente inferiori rispetto alle zone interne, ma i tassi di umidità saranno particolarmente elevati, intorno all'80-90%. Quindi caldo a foso lungo le coste, caldo torrido sulle zone interne. Ripeto, però i valori potrebbero superare anche i 40 gradi e quindi ci sarà spazio a possibili record di temperatura. Quindi dobbiamo fare prestare anche attenzione al fatto che ci saranno dei record, ma preoccupa soprattutto la persistenza di questa nuova ondata di caldo che alla base dei dati attuali proseguirà per gran parte della prossima settimana. Ci ha insegnato che le previsioni a lungo termine non sono possibili, ma la tendenza qual è? Al momento gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici mostrano la persistenza del caldo anomalo almeno fino alla fine della prossima settimana. Poi è impossibile andare oltre anche se inizia a intravedersi comunque un cedimento di questa struttura di alta pressione di matrice nordafricana nel corso della settimana successiva, ma si tratta di ipotesi. Non è possibile elaborare previsioni del tempo con un lungo raggio così come è prospettato dai modelli, però insomma ripeto la prossima settimana il caldo sarà particolarmente intenso su tutte le nostre regioni.